buon pomeriggio a tutti bentornati a siamo noi ferri da maglia uncinetto gomitori di tutti i colori rocchetti tutti questi strumenti tutti questi oggetti quanti ricordi suscitano in ciascuno di noi perché si tratta spesso di strumenti che erano delle nostre nonne magari anche delle nostre bisnonne delle nostre mamme e badate bene che non parlo solo di ricordi perché sferruzzare lavorare a maglia a cucire con la macchina sta tornando prepotentemente di moda fioriscono dappertutto soprattutto online corsi e sempre più persone vanno riscoprendo la sapiente arte del fai da te che poi è anche una concretissima opportunità di lavoro e un modo vedrete scopriremo oggi molto efficace per aiutare gli altri e allora noi oggi lo state già intravedendo abbiamo portato in studio e quindi anche nelle vostre case un po dell'incanto dei colori la morbidezza dei tessuti il calore delle lane e io voglio dare il benvenuto alle nostre ospite a partire qui a un ben un ben tornato da ines scardia presidente dell'associazione cuore di maglia che ha portato lo vedete sul tavolo un po delle sue creazioni ines bentornata grazie bentrovati e grazie di nuovo per avermi per avermi invitato e per avermi dato di nuovo la possibilità di parlare di maglia con voi ecco collegata con noi dalla spagna e anche questa vedrete una gran bella storia c'è vittoria conte insegnante di cucito guai a chiamare la sarta perché lei con molta ammirevole modestia dice che sarte si potrebbero arrabbiare benvenuta benvenuta buon pomeriggio grazie grazie per questo invito buon pomeriggio a lei vittoria allora ines noi lo abbiamo detto tante volte qui e anche con te però vale la pena giova sempre ripeterlo lavorare a maglia è ormai scientificamente comprovato che ha un effetto estremamente positivo non solo sul nostro umore ma proprio sulla salute esattamente ci sono ormai degli studi ci sono dei dati che lo testimoniano e lo certificano e ci sono anche dei terapisti che sempre più spesso consigliano il lavoro a maglia e uncinetto proprio per come una sorta di antistress proprio per aiutare la concentrazione e diciamo alleviare quelli che sono i disturbi legati all'ansia ecco infatti la maglia è stata introdotta in molti reparti oncologici insomma la ricerca sta veramente progredendo in questo senso vittoria io credo che funzioni così anche con il cucito a macchina lei tiene delle lezioni di cui parleremo e poiché tanto l'entusiasmo che suscitano spesso le capita di organizzare di incontrare alcune delle sue allievi degli allievi e così ha confidato condiviso con noi con la nostra redazione due testimonianze che abbiamo trovato particolarmente toccanti e vorrei che insomma le rendesse nota anche ai nostri spettatori e alle nostre spettatrici sì sì io io non l'avrei mai creduto mai creduto perché per me il cucito è anche molto piacere invece tantissime tantissime persone vedono nel cucito un modo per combattere o diciamo così affrontare la depressione una storia molto molto forte per me è stata quella di una signora che era in chemioterapia la incontro alla fiera di licenza due anni fa e mi racconta che lei voleva aveva chiesto il permesso al suo medico di venire farsi due ore di macchina stava con il marito per incontrarmi e dirmi che avevo salvato la vita e io le dissi no 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 io non salvo la vita e però il cucito forse la stava aiutando la stava aiutando molto e lei voleva dirmi questo piangendo e è stata una cosa incredibile per me quando ci penso ancora adesso i brividi e poi c'è stata una mamma che viveva una condizione di stress sì una condizione di stress fortissima e lo psicologo dell'ospedale che perché sua figlia insomma aveva questa sindrome non so una malattia molto importante doveva affrontare delle una terapia piuttosto lunga e il suo medico psicologo le disse no lei signora deve trovare un hobby qualcosa da fare manualmente e lei così mi incontrò in facebook come fanno in tanti e iniziò a cucire e iniziò a cucire non sapendo fare assolutamente nulla e l'incontro continuamente la sento e mi dice che adesso addirittura cuce per un'associazione di questo ospedale perché sua figlia sta molto meglio e insieme cuciono per così raccogliere fondi per aiutare le altre famiglie magnifico così avete già capito di che cosa si tratta e con queste testimonianze abbiamo fatto i primi decisi passi sulla strada giusta per raccontare quelle che sono vere e proprie arti che toccano profondamente il cuore e allora poiché siamo assolutamente certi che la cosa vi interessi parecchio vi coinvolgiamo subito Simone a te e allora Gabriella chiamiamo raccolta tutte e tutti gli amanti della maglia e del cucito allora chi vi ha insegnato prima cosa e poi toglietemi una curiosità per chi sferruzzate parenti amici non so diteci tutto e soprattutto Gabriella lo posso dire anche oggi diciamo lo dico mandateci le foto su whatsapp mi raccomando e sulla nostra pagina facebook vi lascio il numero 3 4 8 3 0 7 0 3 4 5 tutti i vostri lavori mi raccomando e ovviamente se volete invece raccontarvi scriveteci sui social su instagram facebook sempre presente e twitter e poi c'è anche la nostra mail quindi vi aspettiamo mi raccomando grazie Simone quando hai detto posso dirlo credevo che stessi per confidarci che anche tu sferruzzi ancora no lo fanno moltissimi uomini e lo fanno moltissimi uomini Ines ci ricordi io lo ricordo però è molto bello da condividere col pubblico che si aggiunge ogni giorno come è nata questa tua passione la mia passione è nata diciamo in età beh insomma ero già grandicella avevo intorno ai 18 19 anni e avevo un gruppo di amiche che amavano sferruzzare io ancora non ero capace ma nei lunghi pomeriggi invernali tra un tè e un biscotto ho chiesto a queste amiche di insegnarmi e così insomma i primi rudimenti il dritto e il rovescio stando in compagnia e poi da lì sono partita per una sulla strada di una passione che non si è non si è più un viaggio lungo una vita che ha anche la tappa di cui parleremo dopo che è l'aver trasmesso questa passione a tua figlia che oggi ha 26 anni che la condivide con te ma tra poco ne parliamo perché sempre su questa bella strada che oggi abbiamo deciso di percorrere a un certo punto incontriamo un laboratorio di tessitura davvero speciale che si trova a casa massella un piccolo borgo a pochi chilometri da otranto dunque siamo nella bella puglia e lì ci attende antonella ferrara antonella buon pomeriggio Gabriella sì io sono in questo laboratorio che si chiama laboratorio di tessitura come potete ben vedere laboratorio cantando e amando e questo già ci dice tutto della dedizione della passione di queste donne per l'arte della tessitura sono in tante ognuno sta facendo una cosa diversa me l'hanno spiegata però io non sono molto brava ma sono molto affascinata da quello che stanno facendo c'è claudia e la signora rosaria che stanno preparando il disegno per la tessitura le altre stanno già tessendo c'è la nostra presidente della fondazione le costantine cristina rizzo ma prima di tutto io mi avvicinerei questi telai che sono bellissimi Gabriella e vi farei raccontare della signora lena come funziona cosa sta facendo signora lena sto facendo un secchiello lavorazione a fiocco leccese cos'è il fiocco leccese è la lavorazione che si tirano fuori questi pioppolini per creare il disegno il disegno su carta come potete vedere e si riporta sullo tessuto tramite questo ferretto il disegno è un così l'abbiamo fissato questo giusto è finito il passaggio si fissa con l'intreccio della trama dell'ordito no io adesso con la navetta lancio la navetta e si forma la trama signora lena posso chiedere lei da quanto tempo tesse tesso da circa 40 anni e anche più pochino insomma non ha fatto parte della sua vita quest'arte il telaio si è una cosa che mi appartiene insomma qui alla fondazione lavoro da più di 20 anni e quindi poi facciamo anche dei lavori molto preziosi facciamo le scerpe in cashmere fate un po di tutto lei mi ha detto una cosa io Gabriella ci tengo a farvela dire anche se la signora si nasconde in realtà è molto bello quello che lei mi ha detto su questi telai esistono dei tempi di penelope e in più hanno un pregio sì perché oltre a fare dei lavori stupendi che poi potete anche vedere dopo è un lavoro il telaio è una macchina che non spreca nessuna energia sia elettrica che nessun spreco economico insomma bastano la testa le mani e i piedi come mi ha detto sì è un lavoro anche di meditazione che ti fa stare bene è molto bello tutto questo io Gabriella non riesco a intervistarle tutte ma qui ci sono anche delle persone più giovani c'è Silvana che ha 47 anni e ha iniziato dopo un periodo di tempo a testere quindi è un lavoro che è arrivato dopo molto bella è la storia di questo posto però la racconteremo tra poco io vi aspetto qui non perdete verrà perché ne vale la pena guarda Antonella noi siamo affascinati abbiamo già capito che si tratta di un tesoro che si tramanda davvero da una generazione all'altra allora siamo curiosissimi contenti di tornare a casa Mastella adesso andiamo brevemente in pubblicità poi rientriamo anche in studio eccoci siamo rientrati in studio e oggi veramente abbiamo portato qui dentro un po' della magia dei colori la morbidezza dei tessuti il calore delle differenti lane per dirvi come sferruzzare lavorare all'uncinetto cucire con la macchina non è soltanto una terapia ma è qualcosa che può diventare un'opportunità concreta di lavoro e sicuramente uno strumento per fare del bene per aiutare gli altri e allora continuiamo questo nostro viaggio con le nostre ospiti torno a collegarmi con la spagna e con vittoria conte perché vittoria e questo lo riassumo io dieci anni fa aveva un'altra vita c'è un prima c'è un dopo era una praticante in un grande studio di avvocati a milano poi insomma il marito lavorava come programmatore informatico poi delle difficoltà sul piano del lavoro il lavoro diventa saltuario tornano insieme a cellule in provincia di caserta e qui succede qualcosa scatta una scintilla che è successo sì e beh dovevamo ricostruirci una vita in quegli anni cercavamo di capire che cosa fare io non potevo stare senza fare niente un pomeriggio vado da mia madre lei faceva il caffè chiacchieravamo vedo la sua macchina per cucire perché tutti ma a casa hanno una macchina per cucire e la sua storica macchina e penso oddio ma perché perché non posso iniziare ad imparare e così torno a casa cerco in un marketplace online cerco una macchina per cucire usata e così senza sapere niente cerco una macchina che rientri nel budget economico che potevo permettermi allora e trovo questo signore che vendeva la sua macchina perché la sua mamma sarta era venuta a mancare quindi si stava liberando delle sue cose lo contatto mi spedisce questa macchina una scatola enorme e io pensavo insomma non so niente di macchine ma non credo che entri in una scatola così grande che sia così grande da richiedere una scatola di questo genere insomma alla fine questo signore che non sapeva niente di cucito mette dentro tutti gli attrezzi della sua mamma del cucito quindi piedini sfilati e rocchetti tutto tutto un mondo di cose che ancora ho che ancora perché aveva messo dentro tutto e lui non ne riconosceva il valore quindi e da lì è iniziata la mia avventura ovviamente io vivevo in un piccolo paese non c'erano scuole non c'erano grandi negozi che organizzassero corsi e lei si è andata cercando proprio i corsi facendo sacrifici per raggiungerli anche insomma lunghi viaggi quell'acquisto di un valore inestimabile perché di fatto le ha cambiato la vita insomma l'ha messa su una nuova strada però fin lì diciamo questa era una passione individuale che lei andava scoprendo che perseguiva quando è che a un certo punto ha deciso di condividere con altri di condividerla con altri quando mi sono resa conto che online non c'era niente e c'erano invece nei gruppi dei social che iniziavano allora a partire persone che avevano lo stesso mio problema cioè di voler imparare ma non avere risorse allora chiedo a mio marito di aiutarmi a fare un sito che chiamiamo appunto così semplicemente cucina macchina dove metto dei tutorial gratuiti per condividere non il progetto in sé ma il procedimento cioè come fare e quindi io man mano che progredivo dicevo alle altre ok se anche voi volete fare questo spuccio questa borsa questo oggetto di arredo per la casa ecco questo è il tutorial io ho imparato così facendo così quindi fatelo anche voi un grandissimo successo un grandissimo successo il sito cuciremacchina.com bella la parte che ha avuto suo marito intanto vi siete trasferiti in spagna nella in stradarla diciamo e ce lo stava dicendo è possibile iscriversi ci sono le video lezioni mi piace sottolineare che le prime cinque sono gratuite per le persone come me che non hanno proprio delle grandissime capacità pratiche ma sono affascinate i fondamentali di quest'arte quali sono a recuperare una macchina per cucire io dico usate quello che avete qualunque macchina di base che avete preso al centro commerciale ereditata vecchia nuova qualunque macchina riusciate a recuperare si impara a riempire la bobina inserirla sotto un rocchetto di filo un pezzetto di stoffa un ago da inserire dentro si impara ad infilarla ad infilare lago ad inserire la bobina in queste cinque video lezioni con un piccolissimo corso posso farle una domanda ma se lei oggi le dicessero le affidiamo uno studio da socia come avvocato di successo e dall'altra parte invece ha la possibilità di continuare a proseguire su questa strada maestra di cucito la vita di prima quella di oggi no 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 tutta la vita questo grazie grazie perché è una passione grande ines bellissimo perché una passione grande ha detto vittoria ma una passione che si trasmette ed è una passione che per esempio nel tuo caso con la maglia ti ha portato ad impegnarti in un'associazione che a noi di siamo noi piace moltissimo cuore di maglia ne sei presidente vogliamo ricordare o spiegare a chi è nuovo di che cosa si tratta cuore di maglia è un'associazione che ormai da quasi 15 anni si occupa di preparare corredini lavorati a maglia da donare ai bambini prematuri ricoverati nelle terapie intensive neonatali di tutta italia oggi come oggi siamo in grado con la nostra rete di circa 2000 volontari e sparsi in tutta italia stiamo vedendo e delle immagini nei parti di consegnare questi corredini in circa 100 reparti di terapia intensiva neonatali in italia e 15 all'estero quindi veramente un numero considerevole e dobbiamo dire magari ce lo puoi anche mostrare che queste creazioni che sono vere e proprie opere d'arte queste corredini devono non improvvisati per niente perché devono rispondere a dei precisi requisiti per la sicurezza dei bimbi e ecco quali sono le caratteristiche che devono avere ce lo fa vedere anche magari lo mette in favore di di camera e riusciamo a spiegarlo anche a chi ci segue sono oggetti che hanno una destinazione molto particolare e quindi devono seguire delle regole precise sia per quello per quello che riguarda la scelta dei materiali che sono materiali sempre di assoluto pregio come la lana merino anti allergica per per neonati e il puro cotone morbido e poi ci sono delle regole che riguardano misure e confezionamento le misure devono rispondere alle esigenze di bambini che sono veramente molto molto piccoli e quindi sono standardizzate e vanno seguite con molta precisione confezionamento si e poi ci sono proprio delle delle regole di confezionamento che riguardano ad esempio le cuciture le cuciture devono essere assolutamente piatte e impercettibili in modo da non non dare fastidio alla delicatissima pelle di un di un neonato prematuro quindi c'è tanta fantasia in questo lavoro ma c'è anche un'attenzione proprio importante in quello che si fa ecco abbiamo visto che cucire con la macchina lavorare a maglia è davvero anche un modo efficace per aiutare gli altri accade anche orvieto dove la cooperativa sociale mir ha organizzato un laboratorio un atelier laboratorio dove lavorano in tanti e chi sono a lavorarci ce lo racconta la nostra marta manzo abbiamo recuperato un immobile che era stato abbandonato per molti anni recuperando tessuti che sarebbero stati buttati dando la possibilità di lavorare a persone che erano rimaste fuori dalla possibilità appunto di un di avere un lavoro la cooperativa mir nasce nel 2013 siamo circa 12 persone e ci sono ragazzi con la sindrome di down maestranze malati psichici persone private della libertà in articolo 21 semi liberi tutti insieme lavoriamo in questa struttura di co working praticamente a seconda ognuno delle proprie competenze capacità abbiamo voluto fortemente creare questo posto per dare una possibilità lavorativa e quindi anche di soddisfazione di dignità carica di autostima per tutte le persone che per qualsiasi motivo non erano riuscite a trovare questa identità sicuramente vengono insegnate tutta una serie di cose fondamentali cucire a mano utilizzare la macchina ricamatrice che per noi è molto importante la macchina piana dobbiamo rispettare le scadenze i capi devono essere di altissima qualità le persone che lavorano qui per contro arrivano spesso con un grandissimo carico di sofferenza di dolore provenendo da storie a volte veramente difficili e questa possibilità per noi di stare qui a lavorare insieme con loro è un motivo di una grandissima crescita ci stupisce ogni volta la tenacia l'attaccamento alla vita alla voglia di ricominciare di apprendere nuovamente o in alcuni casi di specializzarsi sul mestiere questo aiuto concreto nel lavoro si coniuga con la sostenibilità che a noi sta molto a cuore tutti i tessuti che arrivano in azienda sono tessuti dismessi da fabbriche o da privati che noi rilavoriamo creando con questi tessuti opportunamente rigenerati altri capi un prodotto che amiamo particolarmente è un tessuto che viene filato in carcere di cotone grezzo con il quale noi realizziamo per lo più arredo casa quindi tende tovaglie asciugamani siamo stati definiti la sartoria che ricuce anche gli strappi della vita sicuramente è un nostro grandissimo desiderio abbiamo esperienza concreta che qualsiasi strappo tessuto può essere riparato anzi questi strappi non solo possono essere ricuciti rammendati ma spesso possono essere fonte per nuovi preziosissimi ricami meraviglioso tra poco vi riportiamo in puglia stiamo per andare in pubblicità però io voglio salutare vittoria conte ringraziarla augurarle buon natale posso solo immaginare che cosa ha cucito quali decorazioni per il suo albero di natale magari non è così ma sono sicura che è così grazie 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 vittoria allora andiamo in pubblicità poi ritorniamo qui studio eccoci siamo di nuovo in studio siamo noi e poco fa abbiamo sentito dire una cosa bellissima che quando si realizzano dei manufatti si cuciono e magari questa attività coinvolge persone che hanno avuto tanti colpi tante batoste della vita beh si può si possono ricucire gli strappi della vita e ines che qui con noi in escardia mi diceva che questa frase un po riadattata a quello che fanno loro vi è stata offerta qualche anno fa da una dottoressa sì dalla dottoressa ottaviano del dell'ospedale san camillo che ci disse proprio questa cosa durante una consegna di natale mi colpi molto e la ricordo con particolare piacere quando una mamma deve essere separata dal proprio bambino perché il bambino deve entrare in culla termica si crea uno strappo e cuore di maglia è in qualche modo un filo che va pian piano a ricucire questo strappo ad esempio attraverso il nostro dudu è possibile portare l'odore della mamma dentro la culla termica e questo fa sì che la mamma abbia la sensazione di essere più vicina al proprio bambino bellissimo si ricrea un ponte proprio strettissimo tra la mamma e il suo bimbo che è nato troppo presto allora ve lo avevamo preannunciato che torniamo a casa massella troviamo dunque in provincia di lecce nel bellissimo laboratorio dove si trova antonella ferrara e vi avevo promesso Gabriella che avremmo raccontato la storia bellissima di questa fondazione e allora presidente Cristina Arizzo vogliamo raccontare la storia di questa fondazione e di queste due fondatrici illuminate che diedero il via a tutto questo sì la fondazione praticamente è una storia di donne di donne molto emancipate per i tempi erano delle nobili donne che però avevano un'attenzione particolare per le fasce più fragili e per le donne in particolare la storia comincia nel 1901 è vero che noi facciamo riferimento a Giulia Starace e Lucia De Viti De Marco che sono le figlie ma la storia comincia con le loro madri che ritengono che l'emancipazione delle donne si possa raggiungere principalmente attraverso l'autonomia economica e con un lavoro che fosse un lavoro creativo che desse l'opportunità alle donne di esprimere la propria creatività ed ecco che aprono le porte del castello ad un grande laboratorio di tessitura dove vanno a lavorare le donne del posto. Nasce così questa storia bellissima che le figlie Giulia e Lucia proseguono e poi queste ultime due donne lasciano alla fondazione queste missioni da svolgere che non sono solo tessitura voi avete visto la tessitura ma è una delle attività in cui noi ci siamo cimentate specializzate che facciamo con passione e amore e però abbiamo un'attenzione particolare per le fasce più fragili noi facciamo recupero della dispersione scolastica per ragazzi minori e anche lì si prendono per mano questi ragazzi gli si forma, li accompagniamo nel mondo del lavoro, molti ragazzi sono anche stranieri quindi diamo veramente delle opportunità di vita poi ci sono anche tante altre attività che riguardano i disabili, che riguardano l'agricoltura biologica insomma si fa un po' di tutto, sempre nella linea di quelle missioni lasciate dalle fondatrici c'è una domanda però che vorrei farti in chiusura, questo posto è Gabriella, voi l'avete raccontato anche in studio la tessitura, il cucito, spesso sono anche delle espressioni dell'anima, consolano, danno aiuto, concentrano, insomma rilassano c'è di tutto e di più in questo mondo, per te Cristina cosa è stato, che cos'è questo posto e che cosa ha rappresentato nella tua vita? Allora diciamo che io sono convinta che in terra ci siano degli angeli buoni che si adoperano per gli altri e fanno del bene poi c'è qualcuno che ha degli angeli speciali in cielo io ne ho uno che è mio figlio e a lui dedico tutto quello che facciamo qui in questa fondazione e quando è successo dieci anni fa, la notte di Natale, Alberto è venuto a mancare insieme a due amici Antonio e Armando, io ho detto ad Alberto facciamo una santa alleanza tu in cielo, io in terra, facciamo cose buone cerco di circondarmi di bellezza e questo luogo me lo consente Gabriella, io da questo posto bellissimo dell'anima vi restituisco la linea Hai toccato anche il nostro cuore, grazie davvero Ines Ines, hai sentito, ti ho visto commossa per cui insomma lo siamo un po' tutti Ines, posso domandarti, perché questo mi rende curiosa cioè voi non consegnate direttamente questi manufatti alle mamme e ai papà ma agli operatori sanitari anche per ragioni di sicurezza, di igiene eccetera non avete mai contatti con le famiglie che ricevono queste cose meravigliose? Noi consegniamo nei reparti, quindi consegniamo i nostri manufatti alle caposala agli operatori sanitari che poi provvedono appunto a distribuirli alle famiglie, ai bambini perché questi sono un dono per i bambini ma riceviamo tantissime lettere, tantissimi messaggi di genitori che testimoniano, che vogliono testimoniare cosa a cuore di maglia ha portato nella loro esperienza della degenza in teen Quindi alla fine il contatto c'è e li ritrovate C'è, è vero Ci avete scritto in talmente tanti che a un certo punto si era bloccato il computer a Simone Simone? Eh sì, amici a casa, mi avete bloccato il tablet perché ci avete davvero mandato tantissimi lavori straordinari questo va detto, ma ve li facciamo vedere tra poco nel frattempo intanto vi leggo appunto le testimonianze, le storie che ci sono arrivate Giuseppina, ma quanto è bello l'uncinetto, mi piace tantissimo ed è gratificante ho realizzato diverse tendine, centrine, copertine, corredino per i neonati mi ha aiutato molto a controllare l'ansia nei momenti difficili della vita Tiziana, confermo, maglia e cucito fanno bene specialmente alla mente io mi diletto da ben 32 anni e anch'io ho scoperto questo mondo grazie a un'amica Eleonora, dopo le scuole medie fui costretta ad abbandonare gli studi per 5 anni maglia, cucito e lavori artistici ai ferri hanno sostenuto le mie capacità creative e mi hanno aiutato molto e poi il messaggio di Rosa Maria ho 85 anni, posso rinunciare a tutto ma non ai ferri ogni anno realizzo coperte e li porto alla comunità di Sant'Egidio la verità è che si lavora sempre per qualcuno anche quando si lo fa gratuitamente questo è davvero un mestiere solidale e poi c'è una sorpresa Gabriella è arrivato un messaggio speciale, ve lo leggo io ho imparato a lavorare a maglia con Ines e si è formata una bellissima amicizia e un gruppo davvero prezioso di amiche grazie Ines da Lidia quindi una sorpresa così e tu te la ricordi ovviamente Lidia? Lidia sì, è una mia allieva perché io sono una mestierante della maglia sono un'insegnante di maglia e Lidia è stata un'allieva del laboratorio Pippi Calselunghe di Roma nel quale io tuttora insomma insegno che si è trasferita ad Aosta per amore perché si è sposata con un austano e che ricordo veramente con grandissimo affetto e le mando un grande bacio meraviglioso, siete uniti da un lungo filo di gomitolo e stiamo vedendo veramente delle foto, le vostre creazioni sono splendide, piena di fantasia senti Ines, a proposito di allieve speciali come Lidia ce n'è una che più speciale di Così non si può che è tua figlia allora tua figlia ha iniziato a 16 anni a appassionarsi oggi ne ha 26 allora ti chiedo come è stata all'inizio questa condivisione e ci vorrei proprio concludere e se oggi a volte vi trovate a fare cose insieme e com'è quel ritrovarsi? i miei figli mi hanno vista con ferri e uncinetto in mano da quando sono nati e a un certo punto si sono ritrovati con una mamma che faceva un mestiere particolare come quello dell'insegnante di maglia ma non è stato tanto questo a coinvolgere Lia che è mia figlia quanto il mio impegno per la prematurità e quindi il mio impegno per cuore di maglia mia figlia è una ragazza che fin dall'adolescenza ha manifestato una particolare propensione per l'infanzia, per la cura dell'infanzia, della primissima infanzia tant'è che oggi è una pedagogista laureata e fa proprio quel lavoro lì è un'educatrice che segue bambini dai 18 ai 24 mesi e questa è stata la molla che l'ha spinta poi a lavorare con me è la mia assistente per quello che riguarda il gruppo Roma Nord di cuore di maglia e ha voluto imparare per questo per fare, lei ama particolarmente lavorare le scarpine e quindi fa tante scarpine io stavo per dire a Lia, Lia è una grande madre e devo dire a Ines, hai una grande figlia assolutamente sì grazie, grazie davvero grazie a tutti voi che ci avete mandato delle foto magnifiche per tutte le condivisioni come sapete noi ci siamo tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 15.15 vi aspettiamo in questo studio grazie a tutti